Noi ringraziamo, ecco qui la lista questa del 9 dicembre, ci sono dei gruppi che sono già andati via e sono rimaste queste poche persone, noi ringraziamo per la loro presenza. E' stato letto adesso qui dal libro di Abba Cook al capitolo 2 dal versetto 9 al versetto 16 e dice guai a chi è avido di guadagno malvagio e poi qui parla delle pietre che parleranno e anche di quelli che bevono e fanno bere gli altri per vedere la loro nudità e altre cose negative. Ma noi ringraziamo il Signore per le persone che sono qui presenti, chiediamo a Dio adesso di illuminare le persone, è stata fatta una richiesta di accettare il Signore Gesù e speriamo che molte persone lo accetteranno come personale salvatore. Questo è già l'ennesimo gruppo che è venuto e grazie a Dio.